Presentato lo scorso 2 agosto, prende vita l'iniziativa promossa dal Comune di Sant'Arsenio e dall'Università di Salerno dedicata alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio. La prima iniziativa prevede la costituzione di un laboratorio di idee denominato Esperienze didattiche del paesaggio, in programma il 24, 25 e 26 settembre. Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa, l'amministrazione comunale di Sant'Arsenio ha voluto mettere al centro del programma di intervento e sviluppo del territorio il paesaggio, con le sue bellezze storiche e naturalistiche. Un progetto che vuole essere anche da stimolo per l'elaborazione di idee futuristiche, ma allo stesso tempo rispettose della storia e della natura. Da qui il laboratorio di idee è primo di una serie di iniziative che saranno realizzate con il supporto del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno e del Cugri, centro universitario per la prevenzione e la promozione dei grandi rischi supportato dall'Università di Salerno e dall'Università Federico II di Napoli. Tra gli obiettivi dell'accordo, la volontà di dare vita ad un programma di scambio e cooperazione scientifica destinate alla conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio con l'istituzione di una scuola di paesaggio. In rispetto anche di quelle che sono le finalità, il primo appuntamento si svolgerà in una location suggestiva dove storia e natura si incontrano e si mescolano. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione di docenti e partecipanti al corso il Borgo Serrone, dove sarà possibile anche pernottare nei tre giorni di corso. Il laboratorio è aperto a tutti, che siano studenti, professionisti, tecnici comunali, amministratori, operatori pubblici o privati di settore, cittadini, operatori culturali, turistici, agricoli ed ambientali. E prevede gli interventi di Vincenzo Peluso, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno, Pasquale Persico, economista Unisà, Roberto Vanacore, Luigi Petti, Domenico Guida, Salvatore Barba, Alessandra Como e Luisa Smeragliuolo Perrotta del Dipartimento dell'Ingegneria Civile dell'Unisà, Lidia De Candia del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari, Daniela Colafranceschi del Dipartimento di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e Nicola Di Novella del Museo delle Erbe di Teggiano, insieme ad Eugenio Ciaoffi, imprenditore e a Catelo Bonadia, già direttore della pianificazione e sviluppo strategico del territorio della provincia di Salerno.